Sono Fusi Roberto della tapezzeria, Fusi Roberto EC, SNC, iniziato da bambino come apprendista e come libero professionista, diciamo come artigiano, iniziato nel 64, quindi sono già 44 anni. Il nostro lavoro consiste nel fare tende da interno e da esterno e poltroni e divani. Il nostro lavoro si svolge localmente qui nel nostro paese e nelle frazioni, però andiamo anche a Ferrara, a Bologna, a Ravenna, quindi è abbastanza allargato. Era un'occasione per poter lavorare perché ho sempre visto fare questi lavori, tende, poltrone, i miei tutti e due facevano questo lavoro. Un po' l'ho sempre provato e non mi riusciva difficile, quindi come occasione di lavoro sono entrata anch'io a far tende e a rangiarmi. persone possono scegliere di tutti i tipi, tutti i colori e scegliere anche come volerle fatte. A volte vengono con il giornale e vedono sul giornale un arredamento con un tipo di tenda particolare e allora si ricrea quell'effetto. Per esempio questo è un campione di tessuti da poltrone, scelgono e poi andiamo a prendere il tessuto e il divano viene ricoperto che torna nuovo. Poi naturalmente il lavoro consiste anche nell'andare a domicilio, prendere le misure, verificare il tipo di ambiente, consigliare e fare preventivi gratuiti. Sempre inerente a quello che è la lavorazione della poltrona, dei divani, abbiamo anche dei prodotti per il mantenimento e la pulizia della poltrona ricoperta in pelle e quindi per poterla mantenere morbida e durare nel tempo. È un mestiere che sta scarseggiando i nuovi apprendisti perché non ce ne sono più e quindi finita la nostra generazione molto probabilmente andrà a scomparire. Adesso noi qui abbiamo ancora nella nostra società due giovani, però penso che se non ci si dà una mossa a poter avviare anche dei giovani e fare questo lavoro qui poi sarà un mestiere che va a finire. Grazie.